Bentornati su Radio Festival Letteratura, la radio ufficiale del Festival della letteratura di Mato. Io sono sempre Stefano. Io sono sempre Matteo. Ma con noi si è aggiunto una terza persona. Ciao a tutti, io sono Arianna. Allora, nella prima puntata di Blink si parlerà di cover theory e di book as a idea as a idea e come ospiti avremo Luca Lopinto, che è il direttore artistico del macro, e Riccardo Benassi, cover theory, che è un artista ed oggi. Non importa più nessuno delle copertine, di come sono fatte internamente, dell'interlinea. Questo perde un po' il dolore del libro. Ma come faccio il libro? ...dalla Spagna, nello specifico, perché la Spagna ha un posto tra i luoghi di elezione. E adesso vi saluto e vi ringrazio tutti per averci seguiti e ad un uomo. Grazie. Grazie.